Benvenuto dalla dirigenza della Serie B, ci lo diciamo, è una situazione piacevole essere tornati nella categoria cadetta e questa volta ricominciamo da casa nostra che è una cosa fondamentale e molto importante. Ricordiamo tutti che due anni fa abbiamo dovuto sostenere dei gravosi impegni per sistemare l'impianto, per sistemare l'impianto di Via Vicenza, per sistemare l'impianto di Piacenza che ci aveva ospitato, questa volta finalmente se tutto va come ci auguriamo vada dopo la verifica che è stata fatta oggi dagli organi federali, cominciamo nella nostra casa che nell'ultima partita è stata una gran bella casa, tutta di bianco colorata, con gli spalti gremiti, pieni della nostra gente, piena di quel calore, di quelle tensioni, di quell'amore di cui tutti abbiamo bisogno per sostenere una stagione molto importante in cui noi vorremmo, sulla base delle esperienze che abbiamo sostenuto due anni fa, cercare in tutti i modi di conservare. Per conservare questa categoria ci va certa programmazione, ci vanno le strutture, ci va un bricio di fortuna e ci va la nostra gente che venga lo stadio a incitare, a condizionare gli avversari, a spingere gli allenatori, i dirigenti, i giocatori a tirare fuori quel qualcosa in più, quello spirito bianco che abbiamo visto nelle ultime sette, otto partite emergere così forte, così marcato dai nostri ragazzi. Detto questo oggi siamo qua per presentare, e Fabrizio lo farà come al solito molto bene perché è una persona preparata, è una persona che ci mette molto cuore, molta anima in tutto quello che fa, a presentare la campagna Abbonamenti di quest'anno che dalla prima giornata dovrebbe vederci calcare il nostro impianto. Quindi se vuoi adesso introdurre il tutto, io chiedo solo ai nostri tifosi di avere coraggio questa volta, di trasmettere la passione che hanno dentro da subito. Abbiamo bisogno dei nostri fans, dei nostri tifosi, tutti quelli che criticano, quelli che amano, quelli che gridano, quelli che gioiscono, quelli che vengono una volta sì e una volta no, non è importante, abbiamo bisogno che vengano a casa nostra a tifare Provercelli. Abbiamo messo al centro dell'attenzione ovviamente i nostri tifosi, i nostri tifosi che abbiamo avuto modo di poter riavvicinare in questo ultimo periodo, i play-off sono stati un crescendo di numeri, così come l'ultima parte di campionato, segno che qualche cosa è riscattato nella testa, nella mente, nel cuore dei nostri tifosi. Sicuramente i risultati sono, come posso dire, un po' la panacea di tutti i mali, ma non solo questo, perché di fronte a un campionato perso all'ultimo momento, devo dire che altrettanto il pubblico ha risposto con grande cuore, con grande determinazione, con quella rabbia agonistica che poi ha fatto sì che i ragazzi in campo trasferissero nel risultato finale. Evidentemente il pubblico di Vercelli ha delle potenzialità inespresse, cosa possiamo fare per cercare di tirarle fuori? Abbiamo tracciato questa strada che si chiama Obiettivo 2400. Voi direte cos'è Obiettivo 2400? Un obiettivo molto semplice, che è quello di attestarci nella media spettatori rispetto ai 1990, di due anni fa, a 2400. E questo è raggiungibile perché ci consentirebbe, rispetto alle squadre che comporranno quest'anno il Girone, che comporranno la Serie B, di poterci attestare tra il diciannovesimo e ventesimo posto, considerato che i nostri competitor in termini di pubblico sono il Carpi, l'Entella e il Cittadella, che tolto le due gare con Palermo e Padova, dove hanno fatto 4800 spettatori e 5300, senza questi due picchi hanno una media di 2350. Quindi riuscire già a vincere il nostro piccolo campionato della media pubblico è un obiettivo che dobbiamo tracciare oggi perché quali sportivi verranno dopo. Per cui nella presentazione della campagna di abbonamenti diciamo che diamo questo compito, ci diamo questo compito, società con i prezzi e pubblico con la risposta agli abbonamenti per arrivare a questo. Per cui ci siamo seduti intorno ad un tavolo e abbiamo cercato di ragionare col cuore ma mantenendo anche degli equilibri di tipo economico perché è chiaro che non sono una voce determinante che compongono l'attivo della nostra società ma sono sicuramente sempre dei premi di inizio stagione che ci consentono anche di generare quel volano di liquidità che in questo momento è importante perché si sovrappongono tutta una serie di spese, iscrizione al campionato eccetera. Per cui facendo una comparazione con i prezzi dell'anno scorso balza immediatamente all'occhio il prezzo unico per la curva, 50 euro a prescindere dall'età, a prescindere da qualsiasi altra considerazione. La gradinata nord, 90 euro ridotto e 150 all'intero, sono comunque uno sconto del 25% rispetto alla media prezzi dell'anno scorso. La gradinata sud pressoché invariata in termini di costo a gara per la semplice ragione che sempre la gradinata nord aveva bisogno di un'iniezione di fiducia. Abbiamo aumentato di poco, del 15% le tribune laterali, al di là del fatto che potrei dire lo spettacolo della serie B è un po' diverso, le frequentazioni in termini di personaggi della serie B in tribune diverso rispetto alla Lega Pro. Comunque come potete vedere qualsiasi settore è stato studiato nel prezzo per avere una propria logica. La parte delle ole adesso la devono fare i tifosi. Credo che il connubio pubblico squadra che è nato nell'ultimo periodo sia stata secondo me oltre all'organizzazione tecnica sia stata un po' la chiave del successo che ci ha consentito di ottenere questo straordinario risultato. È doveroso, credo a nome di tutti, del Presidente che oggi non è qui, l'abbiamo già fatto prima ma è giusto ribadirlo anche oggi, un sincero ringraziamento per i tifosi perché siamo riusciti a portare nelle ultime 4-5 trasferte una media di 400 tifosi al seguito. Credo che neanche piazze più importante abbiano mosso un numero di persone così elevato nelle gare. Quindi Vercelli è piccola ma ha un grande cuore. Quindi io dico ci sono più motivi per potersi abbonare. Siamo a casa come diceva Iose sin dal primo giorno. Quest'anno effettivamente la possiamo vivere con la testa libera, cosa che non abbiamo fatto due anni fa. Le parole che sto dicendo non vogliono essere un lamento assolutamente ma un forte ringraziamento nella persona del Presidente perché ricordiamoci tutti che noi abbiamo un Presidente che è una persona, parlo dal punto di vista personale, una grande persona che sa in tutti i momenti gettare il cuore oltre all'ostacolo cercando di usare però la razio e gli strumenti necessari per creare un futuro stabile. L'ha dimostrato non con le parole, l'ha dimostrato con i fatti. La gioia che ha avuto vedere lo stadio pieno, l'ultima partita, al di là delle tensioni, è stata immensa perché era quello che noi abbiamo sognato dall'inizio, da quando abbiamo incominciato. Quindi io dico tutti insieme, lo dissi anche prima dei playoff, dobbiamo stampa, dirigenti e oggi dico il pubblico di Vercelli, la gente di Vercelli deve darci un segnale importante. Abbiamo bisogno della nostra identità forte, forte per cercare di tenere questa categoria. Noi abbiamo bisogno della nostra gente, così come la nostra gente ha bisogno della dirigenza seria e competente, quale credo abbiamo dimostrato di essere in tutti questi anni.